La conferenza che si è tenuta oggi qui a Palazzo Risponi ha riguardato il tema dei cambiamenti climatici e in particolare ha riguardato il problema dei cambiamenti climatici a partire dalla conferenza di Rio del 1992 fino all'accordo di Parigi del 2015 e i suoi provvedimenti attuativi. Si è trattato di un tema particolarmente interessante, di grande attualità, qual è quello dei cambiamenti climatici, analizzato sotto i due distinti profili, l'aspetto più strettamente tecnico-scientifico dell'innalzamento della temperatura, in particolare degli effetti di essi sul clima e i profili più strettamente giuridici. Sotto questo secondo aspetto in particolare si sono trattate due relazioni principali, una riguardante i contenuti dell'accordo di Parigi e la seconda relativa alla strategia europea e italiana sull'esattamento ai cambiamenti climatici.